Adesso andiamo a fare un esempio di come realizzare lo scambio termico fra i fluidi di questa tabella. Abbiamo già visto che danno origine a queste curve composte, questa cascata di temperatura, questa tabella degli stream, la stream table, questa cascata, cascata fattibile e cascata fattibile, queste sono le curve composte traslate in modo da annullare la differenza lungo l'asse verticale e il pinch e questa è la cosiddetta grande curva composta che si ottiene facendo la sottrazione entalpia per entalpia delle curve composte singole. Perfetto, adesso vediamo come uno può procedere a disegnare uno scambio termico. Ricordati che l'obiettivo è realizzare uno scambio termico per tutto il delta H lungo cui le curve si sovrappongono. in modo che rimangano fuori dallo scambio termico fluido a fluido soltanto il minimo calore richiesto dall'esterno, vale a dire la zona dove le due curve mancano di sovrapporsi a destra, e il minimo calore da rigettare all'esterno, vale a dire la zona dove le curve mancano di sovrapporsi a sinistra. Questo si chiama progettare per la minimizzazione energetica. Ok. In altre parole, guarda il libro, non guardare i tuoi appunti. In modo non grafico, sulla cascata di temperatura, l'obiettivo è recuperare tutti i surplus di entalpia dei caldi e mandarli nei freddi. Fatti salvi i 20 kilowatt iniziali della hot utility, che devono essere trasferiti ai fluidi di caldi, tutti gli altri surplus vanno trasferiti dai caldi ai freddi, tranne l'ultimo che va andrà alla cold utility. Questo è l'obiettivo. Allora, uno si arma e comincia. Queste cose le abbiamo viste. Perfetto. Allora, qua abbiamo un'altra rappresentazione grafica dei nostri stream. Con le temperature a cui entrano nel processo e quelle a cui escono. Quindi, per comodità, i fluidi caldi sono rappresentati qua in alto e i fluidi freddi sono rappresentati qui in basso. E le capacità termiche, in parte. Ok. Allora, di quanta entalpia ha bisogno il fluido numero 2 di buttare via? Allora, sarà 170-60, che fa 110, per 3, 330. Ok. Questo qui, 150-30, 120, per 1,5... 180. Grazie. Prego. 135. Da 20 a 135 è 115, per 2 di nuovo 330. Giusto? 230. 230, scusa. Da 80 a 140 sono 60, per 4, 240. Allora, e questa cosa la trovi rappresentata in questa figura. La trovi rappresentata? In questa figura qua. Ok, sì, sono qua. Ok. Le differenze di entalpia che ci eravamo calcolati. Ora, dice il libro, possiamo vedere di primo acchito una cosa. Il fluido numero 2 ha da buttare via 330 kilowatt, mentre il fluido numero 3 ne ha a guadagnare 240. Quindi, noi possiamo soddisfare tutto il bisogno entalpico del fluido 3, facendo fuori una buona parte dell'entalpia del fluido 2. Sei d'accordo? Quindi, ci organizziamo uno scambiatore di calore che fa il passaggio dal fluido 2 al fluido 3. Vedi questi due cerchiolini con il numero 1 dentro? È uno scambiatore di calore. Bravo! Rappresentano il lato caldo e il lato freddo di uno scambiatore. Questo modo di disegnare le cose si chiama in gergo diagramma lecca-lecca. Ok. Perché questa immagine del cerchietto con l'asticella per rappresentare uno scambiatore... Ricorda un po'. Ricorda un po' se fosse da una parte sola. Ok, ma quindi significa che nello scambiatore, in questo caso nello scambiatore 1, arriva a 3, a 80 gradi centigrani ed esce a 140 e arriva a 2, a 170 ed esce a 90? Ed esce a 90? No! O meglio, ni. Allora, non ti confondere. Qui il libro ha rappresentato, come si dice, la temperatura di Pitch, che è, ricordiamoci, la temperatura di Pitch per questo problema è 85 gradi. Giusto? 85 gradi, sì. Qua ci sei, ma 85 gradi sull'asse di temperature traslato. Sull'asse di temperature reale, il Pitch è a 90 gradi per i fluidi caldi e 80 gradi per i fluidi freddi. Ok. Bene. Questo cosa vuol dire? Che qui ti ha semplicemente rappresentato la linea di Pitch. Ok. Ora, il fluido freddo, come dicevi prima, da questo scambio fa tutta la corsa che gli serviva da 80 a 140. Pacifico. Il fluido caldo, che corsa fa? Beh, dobbiamo prendere i 240 kilowatt scambiati. Dividerli per il CP, che fa 3. Sì. Mi segui? 240 per 3 fa 4. Scusa? Dividerli per 4. No, il CP... Ah, no, per quello. Sì, ok, sì. Ok, ci sono di nuovo. Ma non stai scrivendo, vero? No. Allora, 240 diviso 3 fa 80. Chiederò comunque, sappilo. Cioè io scriverò. 170 meno 80 fa 90. Quindi in effetti il fluido caldo esce da questo scambio a 90 gradi. Ma è una coincidenza. Ok. Questi 90 gradi qua si riferiscono alla temperatura di pitch. Ok, ho capito. Perfetto. A questo punto, come facciamo a mandare il fluido numero 2 alla temperatura finale di 60? Aggiungiamo uno scambiatore di calore verso l'esterno. Che fa i 90 kilowatt che restano. Perché 330 meno 240 fa 90. Ok. Ci sei? Sì. Perfetto. Adesso possiamo vedere un'altra cosa. Se io copio il fluido caldo 4 col fluido freddo 1, ottengo un'altra volta di annullare completamente il fabbisogno entalpico di uno stream. In questo caso il numero 4. Perché vedi che il 4 ha solo 180 kilowatt da dare. Mentre il numero 1 ne ha 230 da prendere. Quindi una parte si può scambiare così. Qua, tra questi due fluidi, posso fare in modo che il numero 4 non ha più calore residuo da scambiare. Ok? Ci sei fin qua? Sì, questo sì. Bene. Praticamente è lo stesso concetto di prima a parti invertite. Allora, qui cosa avevo fatto? Ho soddisfatto di un colpo solo. Tutto il fabbisogno entalpico del fluido 3. Questo scambiatore. Lo vedi? In base a delta H. In base a delta H. Bravo. Vedi che questo scambiatore mi ha soddisfatto tutto il fabbisogno entalpico del fluido 3. Adesso stesso concetto. Questo scambiatore di calore mi soddisfa tutto il fabbisogno entalpico del fluido 4. Perché lo sto accoppiando con un fluido che può prendere più di calore di quello che lui ha da dare. Quindi vuol dire che questo fluido è a posto. Il secondo check sarebbe quello di verificare data. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Allora, 180 kilowatt diviso 1,5 che è il CP. Fa un delta T di 120. 150 almeno 120 è 30. Esattamente la temperatura a cui dobbiamo arrivare. Adesso vediamo qui. Il fluido 1 ha il fluido 1. 180 kilowatt fratto un CP di 2 fa un delta T di 90. Il fluido 1 partiva da 20. 90 più 20 fa 110. Io devo ancora arrivare a 135. Quindi questi 50 kilowatt di differenza li devo supplire con uno scambiatore di calore esterno fornito dalla 8 utility. Ok. Totale. Alessandro, seguimi per piacere. Sono qua. Sto chiedendo 50 kilowatt alla 8 utility e 90 alla cold utility. Mentre il totale degli scambi rigenerativi è 180 più 240. Allora, 180 più 240 fa 420. Facendo le cose in questo modo noi abbiamo 420 kilowatt in rigenerazione. Giusto? 50 da chiedere al pozzo caldo e 90 da dare al pozzo freddo. Adesso, torniamo un attimo più su e chiediamoci se la cosa è ben fatta. È questo che pensavo. Ecco. Allora, basta guardare questo grafico. Eh, ce ne sono 30 di più in gioco. Allora, questo grafico ci dice che in teoria noi dal pozzo caldo dovevamo chiedere ne 20, non 50. E al pozzo freddo dovevamo rilasciarne 60, non 90, come invece stiamo facendo adesso. Quindi, cosa vuol dire? Che stiamo chiedendo 30 kilowatt in più al pozzo caldo per poi cederli al pozzo freddo inutilmente. Vale a dire che la nostra rigenerazione di 420 kilowatt non è la migliore possibile. Assolutamente. Anche perché lo andiamo a vedere dal grafico un po' più sopra. Allora, la zona di sovrapposizione totale che parte da 60 e arriva a 500 circa, te la dici qua, la zona di rigenerazione totale disponibile è 450 kilowatt, non 420 che è quello che riusciamo a totalizzare. Esatto. E infatti quei 30 kilowatt che non riusciamo a prendere nello scambio termico si riversano nei 30 kilowatt in più all'heating e nei 30 kilowatt in più al cooling. Perfetto. È come se noi stessimo lavorando con questa curva traslata verso sinistra di 30 il che ci aumenta di 30 questa zona qua e ci aumenta di 30 di questa zona qua. Bene. andiamo a vedere quindi qual è stato l'errore che abbiamo fatto. Perché? Per ottenere uno scambio termico non ottimale deve essere che noi abbiamo violato qualche regola. Allora, abbiamo messo un riscaldatore sopra il pinch e quindi questo va bene. Abbiamo messo un cooler sotto il pinch e quindi anche questo va bene. Quindi, se abbiamo violato una regola dobbiamo aver violato per forza l'altra cioè la prima cioè abbiamo inadvertitamente realizzato uno scambio termico a cavallo del pinch. Vediamo cosa fa lo scambiatore di calore numero 1. Lo scambiatore di calore numero 1 non può essere il colpevole per un semplicissimo motivo vale a dire che il fluido freddo numero 3 nasce proprio alla temperatura di pinch. Tutto lo scambio termico quindi se lo fa sopra vedi che la temperatura di ingresso nel sistema 80 gradi è uguale alla temperatura di pinch per i fluidi freddi quindi non può essere lo scambiatore di calore numero 1 il colpevole deve essere il 2 perché? perché allora qui stai attento per favore segui 180 kW se il fluido 1 becca 180 kW a quale temperatura valza? allora 180 kW diviso il suo cp che è 2 fa 90 90 più 20 110 110 ma se il fluido 1 balza 110 gradi con questo scambio mi segui vuol dire che una parte del calore se lo becca sotto il pinch ma questo calore dal fluido 4 viene rilasciato sopra il pinch allora c'è un modo relativamente più semplice di vedere questa cosa guarda l'ultima colonna di questa tabella il fabbisogno entalpico o il surplus entalpico che noi avevamo calcolato in totale il libro te lo splitta fra i kW sopra il pinch e quelli sotto il pinch allora vedi per il fluido 2 di questi 300 kW in totale che aveva da perdere 240 erano persi fino a 90 gradi cioè il pinch dei fluidi caldi e 90 erano persi sotto bene il fluido freddo numero 3 i 240 kW da guadagnare erano tutti da guadagnare sopra il pinch quindi quando il fluido numero 2 gli ha trasferito i 240 che lui aveva da traspendere sopra c'è stato uno scambio termico senza attraversare il pinch perché i 90 gradi residui il fluido 2 li ha ceduti al cooler cioè al pozzo freddo esterno viceversa il fluido caldo numero 4 i suoi 180 kW li aveva a disposizione 90 sopra il pinch e 90 sotto perché la cascata termica del fluido caldo da 150 a 30 attraversa il pinch lo buca ma quindi vuol dire che se lui ha dato tutti i suoi 180 kW ne ha dati 90 sopra il pinch e 90 sotto il pinch allora fin qua ancora non sarebbe un problema bisognerebbe far sì che questi 90 siano tutti finiti sopra il pinch e questi altri 90 siano tutti finiti sotto ma così non è perché abbiamo visto che i 90 kW sopra il pinch finiscono nel fluido 1 sopra ma dei 90 di sotto anche questi finiscono nel fluido 1 sotto il pinch o meglio 90 vanno sopra e di questi 90 altri 20 vanno a fare il suppuso sopra e altri 70 rimangono sotto il pinch ok quindi lo scambiatore di calore numero 2 era il colpevole come si fa a rimediare bisogna ripensare un attimino le cose a questo punto il libro ti dice subito se tu vai avanti per tentativi prima di rimediare al problema spendere tutta la vita cominciamo a dirti come si fa bene allora noi abbiamo visto Alessandro di aver migliorato la regola di trasferire il calore a caldo il pinch allora dice il libro ma cominci a progettare il tuo network di scambiatore di calore al pinch così se cominci da lì sei sicuro di non fare questo errore una possibile coppia sarebbe il fluido 2 contro il fluido 1 questa coppia ha un problema il problema è che il fluido 2 ha una capacità termica di 3 kilowatt su grado mentre il fluido 1 ha una capacità termica di 2 kilowatt su grado vuol dire che a parità di delta H ha scambiato il fluido 2 perde poca temperatura mentre il fluido 1 guadagna tanto in temperatura ma questo che significa che se tu partivi da sopra il pinch allora il fluido 1 guadagna temperatura più velocemente di quanto il fluido 2 la perda e quindi arriverai di nuovo a far sì che le due curve si tocchino e quindi tu in teoria ti stavi muovendo sopra il pinch in realtà troverai un altro pinch quindi questo modo di accoppiare i fluidi sopra il pinch non è vantaggioso perché ricordati che il pinch rappresenta un punto in cui la driving force per il trasferimento di calore è minima quando tu stai progettando sopra il pinch vuoi essere sempre con degli scambiatori che hanno a disposizione più delta T di quello minimo se tu mi accoppi un fluido caldo con un CP di 3 e un fluido freddo con un CP di 2 viceversa ti troverai di nuovo ad avere un altro pinch sopra quell'originale e quindi stai andando a diminuire globalmente il delta T per i tuoi scambi di calore viceversa vediamo un'altra opzione accoppiare il fluido 2 e il fluido 3 come avevamo fatto prima andava anche bene da questo punto di vista perché guarda io accoppio un fluido con un CP di 3 contro un fluido con un CP di 4 questo vuol dire che il fluido freddo guadagnerà temperatura più lentamente a parità di delta A quindi vuol dire che muovendomi sopra il pinch la curva calda e la curva fredda continuano ad allontanarsi e quindi il delta T minimo per i miei scambi termici continuerà a essere maggiore o uguale il delta T minimo perfetto idem quando faccio il fluido caldo 4 col fluido freddo 1 ma questo ci fa capire che nel nostro design originario non era la scelta dei match sbagliata la scelta dei match andava bene quindi quello che abbiamo sbagliato è qualcos'altro si comincia a progettare partendo dal pinch sopra il pinch si associano fluidi caldi con un calore specifico minore di quello dei fluidi freddi associati sotto il pinch viceversa i fluidi caldi devono avere un cp maggiore di quello dei fluidi freddi con cui si incrociano adesso andiamo a vedere quindi tenendo gli stessi match cosa succede se io prendo lo scambiatore di calore prima incriminato e lo limito vale a dire non gli consento più di scambiare 180 kilowatt come in precedenza gliele lascio scambiare solo 90 ok allora cosa succede il fluido 1 a partire dalla temperatura di pinch cioè 80 se si becca 90 kilowatt bene 90 kilowatt diviso il cp che è 2 fa 45 più 80 125 quello che manca lo prende da un pozzo di calore esterno il delta H totale per il fluido 1 era 110 90 sono soddisfatti ne mancano 20 lo scambiatore di calore fra il fluido 2 e il fluido 3 viceversa rimane inalterato perché lui andava bene adesso lo scambiatore di calore 4 1 non ha fatto tutti i 180 kilowatt che il fluido 4 doveva rilasciare ne rimangono da fare 90 ok da fare 90 aspetta 30 gli può ancora dare il fluido 1 e 60 lì darà il pozzo freddo esterno viceversa andiamo a vedere il fluido 2 sotto il pinch il fluido 2 sopra il pinch aveva scambiato 240 kilowatt non tutti i 330 che aveva a disposizione ma adesso i 90 che gli mancano può scambiarli col fluido 1 perché il fluido 1 finora ne ha presi 20 più 90 più 90 dal fluido 4 e fa 200 il suo fabbisogno era 230 e questo scambio è anche virtuoso dal punto di vista delle capacità termiche perché il fluido 4 ha un cp di 1,5 e il fluido 1 di 2 però c'è anche il fluido 2 di mezzo che ha un cp di 3 quindi nell'immediata vicinanza del pinch io rispetto la regola dei cp quando mi sono mosso un po' lontano dal pinch la regola dei cp posso anche rilassarla ok perché una volta che io sono andato via dal pinch anche il fatto di avere un'inversione tra queste due curve non mi porterà verosimilmente ad avere un nuovo delta T minimo ok ora tu vedi che con questo nuovo design il cooler deve scaricare solo 60 kilowatt e l'iter ne deve fornire soltanto 20 morale della favola ho rispettato i requisiti energetici ottimali ok e come li ho rispettati punto primo ho tracciato una linea divisoria al pinch e ho cominciato a progettare sopra e sotto il pinch come se fossero due problemi separati quindi la regola d'oro che dicevamo non bisogna trasferire calore attraverso il pinch si declina essa stessa in almeno altre due regolette prima sotto regola comincia a progettare dal pinch sopra e sotto come se ti trovi in due zone separate punto secondo quando sei sopra i fluidi caldi dovrebbero avere un cp minore di quelli dei fluidi freddi a cui incroci quando sei sotto viceversa i fluidi caldi dovrebbero avere un cp maggiore quando ti sei mosso un po' lontano dal pinch queste regole possono essere rilassate sopra il pinch non inserirei mai un cooler e sotto il pinch non inserirei mai un heater immagina di tornare un attimo al design non ottimale quello in cui come si dice la hot utility chiede 50 e la cold utility chiede 90 e la tua rigenerazione è soltanto 420 e non tutti 450 premessi adesso da un punto di vista energetico siamo in perdita ma da un punto di vista economico non necessariamente perché i 90 kilowatt al pozzo al pozzo freddo avranno un costo equivalente in soldi i 50 kilowatt dal pozzo caldo avranno un costo equivalente in soldi mi segui? sì viceversa i 420 kilowatt che tu stai risparmiando ti richiedono due scambiatori di calore con una certa area ora andiamo al design energetico ottimale questo abbiamo ridotto il costo del pozzo caldo abbiamo ridotto il costo del pozzo freddo ma aumentando lo scambio rigenerativo noi adesso abbiamo non solo 4 scambiatori al posto che 2 ma quindi avremo anche un'area di scambio termico superiore quindi la domanda che ti fa l'economista a questo punto è ma caro ingegnere che mi stai facendo risparmiare 30 kilowatt di là 30 kilowatt di qua sei sicuro che mi stai anche facendo risparmiare soldi no perché ti dice l'economista io piuttosto di comprare due scambiatori di calore in più per recuperare 30 kilowatt di scambio rigenerativo preferivo pagare 30 kilowatt in più di metano sai cioè capisci una volta che ci si muove fuori dal mondo dell'ingegneria e si comincia ad entrare nel mondo dell'economia o nel mondo insensuato questa obiezione viene fatta sì sì certo cosa mi costa di meno il super targeting vuol dire non prefiggiamoci solo come obiettivo risparmio energetico prefiggiamoci come obiettivo il risparmio totale allora in questa figura puoi vedere immaginiamo che la hot utility il costo della hot utility salga al crescere della temperatura minima tra le due curve perché te lo ricordi bene se io traslo la curva tratteggiata verso sinistra e quindi faccio salire il delta t minimo allora allargo la zona da coprire con il pozzo caldo idem a sinistra se io le traslo e quindi anche la distanza in verticale aumenta aumenta la zona da coprire col pozzo freddo bene ma se le temperature ma se le due curve traslandole acquistano distanza in verticale l'area degli scambiatori di calore che fanno lo scambio sarà più piccola perché il delta t minimo è più grosso quindi torniamo a questo grafico qui se aumenta il delta t minimo il costo dei fluidi servizio le cosiddette utilities sale ma l'area necessaria agli scambiatori di calore diminuisce la somma delle due curve è questa curva tratteggiata qua in alto e vedi che non è monotona ha un punto di ottimo questo significa che se ti muovi a destra del punto di ottimo cioè aumenti il delta t minimo aumenta troppo il costo del pozzo freddo del pozzo caldo mentre se ti muovi troppo sotto la temperatura minima tu praticamente vai a spendere il minimo possibile per le utilities ma ti trovi a dover fare degli scambiatori con un'area troppo grossa per soddisfare tutta la potenza rigenerativa che riesci a fare e tutta la potenza rigenerativa cioè nel momento in cui ne fai di più la fai anche con il delta t minore a disposizione quindi ogni problema quando vai a considerare anche i coefficienti di costo economico ha un suo delta t di ottimo ok ok quando tu sei su un impianto reale ti puoi scordare di avere per ogni fluido la temperatura di ingresso la temperatura di uscita l'esatta portata massica l'esatto cp eccetera 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 è un macello perché è chiaro che in un impianto reale per dire alcune portate alcune temperature si conoscono benissimo altre invece no e per quanto riguarda i calori specifici ancora peggio cioè i calori specifici o si tratta di fluidi puri e allora te li puoi ricavare dalle tabelle ma comunque te li devi sempre procurare tu o viceversa se si tratta di miscele e non di componenti puri i calori specifici non li sa nessuno ok e te li devi ad esempio retro ricavare ad esempio in modo molto 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 diretto che però troppo è un caso come si dice è un caso fortunato se tu hai un fluido anche la miscela più sconosciuta del mondo che a un certo punto scambia calore con dell'acqua ok e tu conosci la portata di acqua e il delta T dell'acqua allora sei a posto perché hai tutti i dati per ricavarti di stato entalpico e quindi anche il CP del fluido a patto che però tu abbia anche le temperature dall'altra parte e anche la portata dall'altra parte assolutamente aggiungi ancora un altro fatto che negli impianti reali Alessandro le temperature sono sempre note con buona precisione e molto spesso sono note quasi dappertutto perché i sensori di temperatura oltre a essere affidabili costano anche poco viceversa un dato sensibile per i telepincianalisi come le portate i misuratori di portata soprattutto poi per gas sono molto più costosi molto più complessi da installare quindi tipicamente in un impianto reale si fanno delle scelte i misuratori di portata affidabili vengono messi in alcuni punti strategici nei punti non strategici i misuratori di portata o non ci sono o sono cose che va bene bomba ti tirano fuori diciamo un numero in ordine di grandezza esatto servono a distinguere la tonnellata dal finale sì ok quindi tutte queste belle tabelline che noi abbiamo visto nel capitolo 2 nel capitolo 3 comincia dicendo ma come ne otteniamo qui ti fa un'introduzione in cui ti spiega più o meno quel che ti ho detto io sui calori specifici ok calcolating heat loads e heat capacity più o meno lo stesso cioè comunque ti mette ti fa più o meno una ricapitolazione sulle diverse tecniche che hai a disposizione per disumere un certo dato se hai gli altri comunque sono cose che abbastanza sai già fare ok dopodiché ti introduce al problema di cosa devi fare se non è possibile assumere che un fluido abbia una calore specifico costante ok problema cioè sì ok me lo riposto tra l'altro esatto la soluzione è appunto di allora riuscire a sapere in qualche maniera fin dove un'approssimazione lineare è valida e quando non lo è più bisogna spezzare le cose ad esempio vedi il fluido caldo nella figura 3.1 sì ecco ti fa una linearizzazione a tratti sì e ti dice anche se la tua spezzata sta sotto la curva nel caso del fluido caldo e viceversa se l'approssimazione sì allora se la tua spezzata approssimante sta sotto la curva del fluido caldo allora stai facendo una buona approssimazione perché abbiamo visto che il problema è di avvicinare le correnti calde e le correnti fredde ma dove le correnti calde arrivano dall'alto sì quindi se la tua curva approssimante è in difetto quando arrivi a calcolare il delta t minimo con la tua approssimazione il delta t minimo a disposizione in realtà sarà un pochino superiore e quindi vuol dire che il tuo progetto è conservativo ma non è troppo ottimistico sì sì chiaro chiaro questo boom allora e con questa parte direi che abbiamo finito scegliere i flussi ecco questa è una faccenda un po' più complessa e anche un po' più delicata allora cerca di seguire il ragionamento ok questo esempio te lo spiega proprio chiaramente tu hai questo processo qua niente praticamente hai un'alimentazione parecchio fredda che si è scelto di creare un serbatoio di accumulo un pochino più tiepido dopodiché dal serbatoio di accumulo attraverso dei preriscaldamenti vai a una distillazione il serbatoio di accumulo serve perché anche su uno schema così semplice facciamoci delle domande perché c'è sempre qualcosa da imparare evidentemente la distillazione funziona in continua ok in questo impianto è necessario distillare una portata tipica una portata tipica nel corso del tempo ci si è accorti che non si riesce sempre a garantire un'alimentazione uguali alla portata tipica magari ci sono dei giorni in cui l'alimentazione può essere un po' inferiore e certi giorni in cui l'alimentazione è un pochino superiore allora tu con un serbatoio di accumulo risolvi anche questo problema è un polmone sostanzialmente esattamente chiaro un altro caso potrebbe essere non è questo il caso perché stiamo andando in una torre di distillazione però immaginati viceversa se a valle ci fosse un sistema di trattamento acqua valle ok allora una qualsiasi acqua non trattata che deve entrare in un sistema di trattamento devi farla passare attraverso dei decantatori e delle griglie che trattengono i sassi e la sabbia allora immaginiamo che il nostro fluido attraversa in un diagramma di temperatura e d'entalpia percorre questa curva allora è una curva che noi dobbiamo scegliere di linearizzare a tratti perché nelle nostre tabelle della pincianalisi noi entriamo con dei calori specifici costanti ok mentre invece questa curva capisci benissimo che qui il calore specifico che cos'è non è nient'altro che l'inverso della tangente punto per punto in una linea curva la tangente cambia continuamente bene come facciamo a scegliere i tratti di spezzata la scelta di default è di ripetere con gli intervalli di temperatura così come ci sono dati dal diagramma di processo cioè immagina che noi stiamo facendo un retrofitting ci danno questo diagramma in mano mi segui una scelta naturale può appunto essere io faccio una linea spezzata a tratti che ripete gli intervalli di temperatura che io trovo su un diagramma di processo sì sì allora questo ti espone a un rischio se tu decidi di tenere le temperature come ti arrivano dal tuo processo noto sì tu avrai nella tua pinche analisis una corrente che passa da 10 a 25 sì una corrente che passa da 25 a 70 e una corrente che passa da 70 a 150 vero quindi quella che nella realtà è una corrente ti è diventata tre fluidi sì va bene questo era inevitabile ma qual è il problema che a questo punto tu rischi di confondere quelle che erano le temperature note con quelle che sono delle temperature richieste te la giri in un'altra maniera allora non c'è un vero motivo di processo per cui il fluido ad esempio in questo punto debba essere a 25 gradi mi segui? c'è il percorso termico che fa questo fluido è costante è continuo non c'è un vero motivo per cui questo serbatoio debba stare a 25 potrebbe stare a 15 o anche a 30 sì ovviamente tu quando ricevi in mano un diagramma del genere devi fare il retrofitting è chiaro che cominci a basarti sui dati noti sì quando però tu ti fai la tua tabellina con il fluido 1 che passa da 10 a 25 e il fluido 2 che passa da 25 a 70 quando questa tabellina la prendi in mano a una settimana di distanza o la passi a un tuo collega che deve andare avanti a lavorarci lui a quel punto tu leggi nella tua tabellina fluido da 10 a 25 poi un altro fluido da 25 a 70 rischi di commettere l'errore di pensare che questi 25 gradi sono un requisito del processo e non semplicemente la foto di uno stato di fatto modificabile ok chiaro il discorso? sì chiaro un altro approccio potrebbe essere un altro approccio potrebbe essere e quindi questo approccio è rischio insito dicevo di confondere quello che è un dato di fatto utile a costruire la tua tabella con quello che è un vero requisito del processo mentre invece tu capisci che qua il processo ha soltanto due veri requisiti il feed mi arriva a 10 perché quella è la temperatura della mia alimentazione non posso farci niente me l'ha data il fornitore e la mia colonna deve lavorare a 150 perché se no l'ingegnere che ha progettato la colonna mi manda a fanculo questi sono gli unici due veri requisiti di processo le temperature in mezzo ti servono a farti la tabellina ma non sono dei veri requisiti se tu ti fai la tabella prendendo le temperature intermedie di 25-70 e poi ti dimentichi che sono solo la foto di uno stato di fatto ma le prendi per requisiti di processo vero succederà che tu comincerai a ritenerle immodificabili e organizzerai i tuoi scambi termici in conseguenza di questa temperatura di 25-70 gradi mentre potresti organizzarli anche diversamente ho capito un altro tipo di errore in cui potresti incorrere è questo tu ti vedi che il percorso sul diagramma TH è una curva e tu ti fai prendere dalla tentazione di approssimare bene la curva spezzandola tante volte il risultato è che tu da uno stream ti trovi una tabella per uno stream freddo reale nel processo ti trovi una tabella 10 stream freddi quindi per dire la complessità dell'impianto reale che già gli impianti reali sono complessi la moltiplichi per 10 nelle tue tabelle della pincia analisis con il risultato di non capirci più niente e soprattutto con il risultato di avere una miriade di fluidi che si muovono ciascuno in un delta T talmente piccolo che quel fluido non ti serve fare niente perché immaginati di riprodurre questa curva in maniera assolutamente precisa facendo intervalli di temperatura di 10 gradi in 10 gradi che scambi è bravo è chiaro che dal punto di vista geometrico e equilideo matematico hai fatto la migliore approssimazione più piccola ma poi con un fluido che deve fare un delta T di 10 gradi che cazzo ci fai siamo capiti quindi attenzione 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 sì sì a non far sfregare allora il mixing come già ti accennavo un'altra volta crea dei problemi perché quando tu mischi due fluidi a temperature diverse si crea uno scambio di calore latente quindi come fai ad estrarre i dati dal processo per metterli nella tua pincia analisi quando hai un mixer che lavora a temperature diverse l'esempio è lampante allora tu se tu prendi i dati così come te li trovi da ad esempio i due fluidi che si mischiano vanno a 80 gradi poi devono scendere fino a 30 ti trovi una linea nel diagramma TH che è come questa riga nera continua se invece risolvi questo scambio di calore latente vale a dire se tu tratti i due fluidi separatamente immaginando che il fluido 1 debba andare a 30 gradi da solo e il fluido 2 debba andare a 30 gradi da solo ti troverai in un diagramma TH come la linea tratteggiata ok allora in questo caso qual è la rappresentazione più aderente alla realtà in teoria nessuna delle due queste due diverse rappresentazioni del fenomeno hanno un effetto sui risultati della tua analisi mi segui? certo sì ecco allora in teoria il modo più corretto è il secondo perché il secondo ti lascia aperta la possibilità di valutare l'inserzione di scambi di calore anche a monte del mixer sì mentre invece se tu adotti il primo approccio cioè di considerare il fluido soltanto a valle del mixer allora poi tu hai che il tuo fluido entra nel processo a 80 gradi il percorso fatto dai fluidi da 100 e da 70 fino al punto in cui si mischiano te lo perdi sì sì chiaro? assolutamente anche se dal punto di vista entalpico è la stessa cosa perché fino al punto di mixing i due fluidi originari non scambiavano entalpia con niente quindi se lo scambio entalpico avviene soltanto da 80 a 30 sì sì con l'esterno diciamo no 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 non confondere il fatto che qua è stato messo uno scambiatore di calore nella figura se tu hai un fluido di cp3 che cade da 80 a 30 sì hai fatto 150 kilowatt giusto? sì adesso fai da 70 a 30 con cp2 cosa ti viene? 80 oh sì c'è scritto sotto da 100 a 30 con cp1 ti viene 70 70 a 80 150 quindi vedi che dal punto di vista del bilancio energetico tutte e due le rappresentazioni sono fedeli dal punto di vista del delta H la prima rappresentazione però ti farebbe dire che c'è un fluido che entra nel processo 80 esce a 30 la seconda rappresentazione invece ti fa dire c'è un fluido che entra a 100 e esce a 30 e un altro fluido che entra a 70 e esce a 30 cioè nella prima rappresentazione tu hai un fluido a disposizione che parte da una temperatura più bassa nella seconda rappresentazione hai due fluidi a disposizione che partono da temperature diverse adesso ho capito un po' meglio il concetto sì questa cosa sì l'ho capita questo è un esempio per dire come davanti ai dati di un impianto reale estrarre i dati in un modo piuttosto che in altro ti causa differenze nei tuoi diagrammi davanti ai dati di un impianto reale cerca di capire parlando con la gente confrontando documenti diversi relativi all'impianto quali dati sono veri requisiti del processo e quali dati invece ti arrivano in mano semplicemente perché sono a disposizione ok ti faccio un esempio c'hai una macchina di quelle grosse in cui quindi il sistema di olio lubrificante che lubrifica la macchina scambia calore con uno scambiatore ad acqua e la macchina è abbastanza grossa e importante da far sì che ci siano misure di portata e temperatura temperatura sull'olio e temperatura importata sull'acqua mi segui ora secondo te ti danno in mano la tabella con tutti questi dati allora secondo te Alessandro tra il delta T dell'olio fluido caldo e il delta T dell'acqua di raffreddamento fluido freddo quale delta T rappresenta un requisito di processo e quale invece è modificabile il requisito di processo o il delta T dell'olio quello sarebbe il requisito di processo quindi tu inserirai nella tua tabella quello stream caldo lo inserirai esattamente con le temperature che ti arrivano dati dell'impianto viceversa l'acqua fluido freddo tu la inserirai sì nella tabella con le temperature che ti arrivano dati dell'impianto perché se no non sai cosa mettere dentro però ti prenderai una nota mentale che quelle temperature nel caso non sono sacrosate non è modificabile cioè hai capito se quest'acqua entra a 20 e esce a 30 ma tu ti accorgi durante l'analisi che sarebbe più comodo farla entrare a 25 farla uscire a 35 non ti porrai tanto il problema anche perché se è un fluido di raffreddamento magari non è neanche a disposizione la portata effettiva o magari la portata è regolata dinamicamente semplicemente per garantire il raffreddamento necessario ok questo vuol dire questo vuol dire identifica i possibili vincoli di processo che prova l'ottimizzazione energetica assumendoli come intoccabili ma anche no cioè se tu a un certo punto facendo la tua pincia analisi ti accorgi che se questo fluido fosse più freddo o più caldo di 5-10 gradi io troverei un incrocio termico molto vantaggioso con un altro fluido in quel punto là a questo punto tu esplora la soluzione perché magari ti salta fuori che quelle temperature che tu vorresti fossero diverse di 5-10 anche i 15 gradi magari possono effettivamente essere diverse basta semplicemente spostare un pochino il punto di funzionamento dell'impianto anche perché tieni presente una cosa in un impianto chimico dove si fanno cioè dove si fanno reazioni non enzimatiche come nel 90% con gli impianti grossi non è che tu devi per forza avere una temperatura precisa 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 per qualsiasi cosa capisci? cioè un conto sono i reattori batch che fanno reazioni con gli enzimi con le alghe con i brodi organici e allora sì si sa che gli enzimi per dire vogliono temperature di funzionamento precise non vanno avanti ma cioè se tu il greggio in una colonna lo butti dentro a 300 gradi o 290 o 310 non cambia niente eh praticamente no ovviamente se il greggio in una colonna diventerà a 300 data la pressione di colonna e dato il tipo di greggio lo puoi buttare a 250 no ma da 300 a 290 ci potresti andare tranquillamente se la tua analisi energetica ti dice che sarebbe più bello avere quel fluido lì a 290 invece che a 300 qua ti fa un esempio sul data extraction ok allora fa immaginiamo di avere questa questa torre in disoluzione petrolifera ok che è una disoluzione iper semplificata delle cosiddette torri atmosferiche ok va bene allora qui c'è qui c'è il pre flash allora qui c'è arriva qui c'è il petrolio che arriva dal dal lavaggio di salino dal distillation train no arriva questa è la prima colonna questa è la prima colonna esatto qua c'è il petrolio che arriva dal lavaggio col sale dal desalazione bravo esatto esatto qua c'è la fornace in cui viene almeno parzialmente scaldato vaporizzato ok qui c'è questo lo chiama di questo sarebbe il primo flash lo chiama dehydrator perché l'acqua che sta dentro al petrolio un po' driva dai lavaggi un po' viene lo vapore iniettato come acqua dolce va praticamente quasi tutto in testa per questo lo chiama anche dehydrator ok ok va bene comunque la frazione liquida no la frazione liquida una parte quindi una parte del vapore più quello che rimane di liquido entra sotto questo lo può entrare a metà questa è la prima distillazione quella più grossolana in cui una parte del taglio leggero viene usata anche come riflusso della colonna dopodiché c'è il taglio pesante che proseguirà a fare la distillazione sotto vuoto e poi invece c'è il taglio medio quindi insomma da qua tirerai fuori le paraffine dal taglio sotto da qui tirerai fuori le nafte e da qui le nafte pesanti esatto sì sì chiaro chiaro comunque ti dice ti fa un esempio di una raccolta dati reale e quindi in completo cioè ad esempio overheads è lo screen su cui tu hai in assoluto meno informazioni ma perché che cos'è overheads nel processo è questo qua è questo stream qua che esce dalla testa questo stream qua che esce dalla testa attraversa due stadi di refrigerazione ed entra in un separatore allora da questo separatore tu una parte del distillato leggero lo mandi via come prodotto una parte è acqua che fa una separazione di fase e la butti via un'altra parte lo usi come riflusso della colonna sì ma quindi a te interessa sapere la portata del leggero che produci la portata del fresco che metti la portata del fresco la vai a aggiungere al riflusso di colonna per mantenere i bilanci del colonna va bene ti interessa ma non c'entra con la portata di quello che esce c'entra con la portata di quello che rientra a te essenzialmente delle uscite di questo separatore interessa solo questa che è uno dei prodotti del tuo impianto questa non ti interessa perché è uno scarto e la portata di riflusso totale sarà regolata in automatico con degli algoritmi che agiscono sul riflusso di colonna per mantenere certi altri parametri sì sì certo tipo le temperature o le purezze o altre cose quindi è molto verosimile che in un impianto reale dove si risparmia sul risparmiabile tu non abbia un riservatore di portata qua ok capisci? chiaro e questo è il punto e qui ti fa vedere realisticamente ti arrivano in mani i dati di impianto in cui tu questa portata qui non ce l'hai chiaro sai le temperature perché tanto le temperature non costava un cazzo monitorarle e quindi mentre invece il risuratore di portata costa ok poi vabbè cara grazia in questo impianto ti danno la portata di acqua che butti via come viceversa ti dice non sappiamo la portata del cosiddetto dei grado cioè non sappiamo questa ma perché? perché tanto per i bilanci della colonna ci basta sapere la portata totale qui assolutamente dopodiché tra misurare questa o misurare questa non le misuro nessuna delle due perché per sapere la portata totale mi basta un misuratore di portata su un fluido che costa relativamente poco qui dovrei misurare la portata di un gas e qui dovrei misurare la portata di un bifase mi servirebbero dei misuratori di portata costosissimi sarebbero costosissimi Alessandro ti garantisco anche per misurare la portata di un vapore d'acqua figuriamoci la portata di un bifase generato dal petrolio cioè non voglio neanche sapere se esistono degli aggeti del genere quanto potrebbero costare chiaro chiaro mi segui? sì 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 e infatti vedi questa portata non è speciale abbiamo la portata del feed del bottom aspetta no il bottom te la dà il bottom lo conosci anche infatti sì ci sono altre cose viceversa che non conosci tipo vabbè insomma diciamo che questa è anche una tabella relativamente completa mancano solo le overends e appunto il deidrato alcuni di questi dati però sono stati retro di cavati ok i detti bracketed values cioè uno no no anche questo cpd 25 del crinfit ok lo ha retrocalcolato sapendo probabilmente che cosa che in questo scambiatore vengono persi tot kilowatt perché è uno scambiatore con uno dei tagli estratti dalla colonna sì sì e questi sono dei vari esempi di come si estraggono dati e questo è un esempio di come si estraggono dati dall'impianto reale ok ma è chiaro direi questa parte ok e a quel punto questa è la tabella che ne deriverebbe in alcuni casi potrebbe essere vantaggioso non avere un delta t minimo di globale per tutto il processo perché allora ad esempio quando tu devi scambiare calore fra gas soprattutto a bassa pressione allora tu sai che i coefficienti di scambio termico in quel caso sono relativamente bassi e quindi si preferisce avere un delta t anche più alto di 20 gradi viceversa quando fai uno scambio termico fluido fluido la regola del pollice è che il delta t può stare nel range di una decina di gradi ok a maggior ragione se progetti un condensatore puoi scendere anche sotto i 10 gradi quindi questo vuol dire che quando uno vuol fare un'analisi un po' più raffinata può non mettere un delta t minimo globale per tutto il sistema ma può assegnare ad ogni fluido un delta t minimo a seconda della natura del fluido quindi quando poi un fluido lo andrei a rappresentare sulla scala delle temperature traslate lo traslerai di un fisso cioè nell'esempio del capitolo 2 abbiamo visto che abbiamo lavorato con un delta t minimo di 10 gradi quindi tutti i fluidi freddi li abbiamo traslati di 5 e tutti i fluidi caldi li abbiamo traslati di meno 5 ecco immagina di fare un'analisi in cui fluido per fluido lo trasli verso l'alto se è freddo verso il basso se è un fluido caldo ma di un delta t diverso ogni volta ok ti faccio un esempio tu hai un gas caldo che si raffredda ma senza condensare allora gli assegni un delta t di 20 e quando vai a fare la scala delle temperature traslata lo trasli verso il basso di 10 ok viceversa nello stesso impianto hai un'acqua liquida satura che sta bollendo e segni un delta t piccolo anche di 4 e quindi nella scala delle temperature traslata quel fluido freddo lo trasli di più 2 sì chiaro 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 l'idea ok sì sì è chiara l'idea questo ti fa capire una volta di più l'utilità di avere non solo le curve composte dei caldi e dei freddi ma anche le curve composte traslate in verticale sulla scala di temperatura unica ok perché immagina di fare un'analisi del genere quindi andando via dall'approssimazione di un delta t minimo uguale per tutti con un delta t differenziato praticamente se tu fai prima la curva composta dei caldi e poi la curva composta dei freddi le metti sullo stesso grafico fai la traslazione orizzontale per cercare il delta t minimo del pitch point ma poi non puoi più fare una traslazione verticale rigida per produrre le curve composte traslate perché hai fluido per fluido e delle delta t diversi allora in quel caso ti devi fare fin dall'inizio una tabella in cui i fluidi non solo hai le temperature reali di ingresso uscito del sistema ma anche quelle traslate ma fluido le temperature traslate individualmente a quel punto tu dai in pasto questa cosa a un software capace di gestirla e lui ti produce direttamente le curve composte con la giusta traslazione verticale vale anche se tu progetti bene vale anche il concetto che il delta t minimo ce l'hai soltanto al pinch ma se fai le cose per bene sia sopra che sotto il pinch il delta t disponibile per gli scambi è sempre maggiore del minimo sì quindi se tu hai un minimo di 10 gradi che va bene in quel punto potrebbe esserci dici ecco esatto bravo però è solo un punto intanto un delta t di 10 gradi va già benissimo per i liquidi se poi c'è anche dei gas che si scambiano calore tu sai che ti basta essere già un po' lontano dal pinch per avere dei delta t reali maggiori e quindi si si quindi esatto compito a casa riscrivere il programma MATLAB per trattare i delta t minimi individuali allora i problemi cosiddetti a soglia sono i problemi in cui una delle due utilities la calda o la fredda o tutte e due non sono necessarie pronto? mi seguo? allora guardiamo ad esempio la figura 3.7a 3.7a ok 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 quale delle correnti di servizio non è necessaria? l'iter perché? .7a perché se guardi i delta h se guardi nella parte nella parte a destra vedi che si può raggiungere per entrambi le temperature con l'età nell'altra curva idem uguale anche qua è l'iter a non essere necessario mentre ti serve sempre un pozzo freddo qual è la differenza? la differenza è che in un caso tu vai che il punto in cui le curve sono più vicine in senso verticale è all'estremo in questo caso no allora questo guarda come si riflette sulle grandi curve composte cioè le curve di sottrazione ok e hanno senso tutte e due i grafici sono attenzione allora apparentemente tu sei partito dallo stesso threshold problem cioè un problema in cui è necessario soltanto il pozzo freddo ma non la sorgente calda però guarda la differenza nelle curve composte quella dove c'è il delta T minimo non all'estremo cioè in corrispondenza un pinch a una temperatura intermedia oh perfetto e questo è importante perché nel secondo caso tu per fare una buona progettazione termica devi comunque trattare questo punto come se fosse un vero pinch di processo e quindi applicare le regole di cominciare a progettare da lì dividendoti in due zone chiaramente distinte una sopra e una sotto accoppiando i fluidi caldi con cp minore sopra e i fluidi caldi con cp maggiore sotto eccetera 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 qui invece sei più libero nei casi come questi puoi progettare scusa dal non utility hand scusa dall'alto nei casi come secondo devi progettare dal mezzo chiaro bisogna stare attenzione attenzione ai threshold problems insomma ok questo tipo di problemi poi ha una caratteristica molto interessante che però la vediamo tra un attimo non te l'anticipo la vediamo quando è il momento va bene ok questo tipo di problema anche ma soprattutto questo ok allora i tipi di correnti ausiliare allora qui ti fa un breve diciamo una breve lista delle principali correnti ausiliari che trovi negli impianti quindi come correnti ausiliari calde puoi avere sì i ribollitori a vapore e fumi di combustione e poi soprattutto oli diatermici ok gli riscaldamenti diretti elettrici ad arco sono cose un po' più di nicchia soprattutto per i processi solidi e così ok mentre invece i pozzi freddi tipici sono l'acqua di raffreddamento i raffreddatori ad aria qua non ti mette in lista anche i sistemi di raffreddamento a torre perché in quei casi hai anche un'aperta e un reintegro continuo di fluidi ok poi vabbè ci sono tutti i sistemi di criogenia il Cile 2 3 system eccetera 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 sì allora la cosa che ci interessa di più a noi è che i pozzi sia freddi che caldi li possiamo dividere in due categorie quella è temperatura fissa e quella è temperatura variabile ok in che senso fa una bella differenza nel senso che ho detto allora immaginate di avere vapore a bassa pressione utilizzato come sorgente di calore quindi fai finta 15 bar 300 gradi ok quello fornisce calore a 300 gradi finché non condensa ora invece immagina di utilizzare come sorgente calda un fumo di combustione cioè tu hai il tuo bruciatore che fa la fiamma quella fiamma secondo le condizioni di combustione magari parte a 1000 gradi magari 800 e comunque man mano che rilascia calore la sua temperatura scende sì sì chiaro idem si usi come sorgente di calore un vapore surriscaldato che prima di arrivare al punto di rugiada fa anche lui una cascata termica ok un olio diatermo è in una condizione intermedia fra le due perché in teoria un olio diatermo non ti rilascia il calore a temperatura costante come un vapore condensante però ha una capacità termica molto più alta di quella di un gas di combustione quindi rispetto a un gas di combustione un olio diatermo è capace di rilasciarti il calore con un delta T di 10 15 gradi sì che quindi è quasi come fosse a temperatura fissa è un buon ibrido è un buon ibrido ok va bene ci siamo come concetto allora andiamo a vedere che cosa ci cambia allora cominciamo per semplicità dalle sorgenti di calore a temperatura fissa ok tra parentesi questo vale anche per i pozzi freddi una corrente di aria raffreddante è una tipica pozzo freddo a temperatura variabile sì perché una corrente d'aria non ha una grossa inerzia termica in genere si cerca di mantenere questo salto di temperatura entro limiti ridotti incrementando la portata d'aria quindi se il cp specifico dell'aria è piccolo usando una grande portata riesco a ottenere un cp globalmente grosso viceversa l'acqua di raffreddamento è già un pozzo freddo che in teoria è temperatura variabile ma nella pratica lo puoi considerare temperatura quasi costante ok il tuo esempio il tipico esempio è quando uno utilizza acqua di fiume per raffreddare i condensatori delle centrali termoelettriche perché lì cosa succede i requisiti di legge dicono che l'acqua di fiume non la puoi rimbuttare nel fiume più calda di un tot altrimenti fai la zuppa di pesce esatto e quindi tu quello che puoi fare al massimo è aumentare la portata prelevata però dal punto di vista del progetto del condensatore tu per amore o per forza hai un'acqua di raffreddamento che ha temperatura praticamente fissa sì ok anche se in realtà è acqua e non è un vero pozzo freddo a temperatura fissa come ad esempio un liquido che evapora sì sì ecco perché ad esempio in un sistema criogenico tu hai un liquido che evapora e un liquido fissa viceversa viceversa in quello tu puoi anche avere un pozzo freddo a temperature alte tipo immagina di far bollire acqua un'atmosfera ok questo è un pozzo freddo a 100 gradi e temperatura fissa sì ricordati che noi per pozzo freddo intendiamo qualcosa quello che si scalda in grado di chiappare calore la nostra stream è a 200 bravo bravo se tu hai una corrente calda a 200 gradi l'acqua bollente fa da pozzo freddo anche se è acqua bollente chiaro il concetto quindi non confondiamo il gergo corrente calda e corrente fredda dell'ingegnere chimico con il caldo e il freddo che interpretiamo la loro classici sì sì ok allora guardiamo subito che cosa si intende per il principio del giusto posizionamento sui grafici qua ti fa un bellissimo esempio hai un problema definito da questa grande curva composta ok ok allora l'idea è tu sai che le correnti tu sai che le correnti ausiliare calde vanno inserite sopra il pinch giusto? esatto sì perfetto il principio del giusto posizionamento ti dice che non vanno inserite soltanto sopra il pinch ma vanno inserite anche nei punti giusti ok ad esempio immaginiamo di avere una sorgente a temperatura fissa che è in grado di mollare 5000 kilowatt segui più o meno sul grafico 5000 kilowatt cioè tutto il far bisogno ok ok ora immagina di mollare questi 5 kilowatt al livello dei 200 gradi te lo tira tutto bravo perché a 200 gradi il tuo processo ne richiedeva soltanto 2000 qualcosa se tu gli dai una sberla di 5000 kilowatt qui è vero che tu soddisfi la tua cascata termica ma è anche vero che tutto l'eccesso te lo ritroverai da restituire al pozzo freddo attento perché tu in teoria non hai violato nessuna delle tre regole dell'oro non hai trasferito calore a calore del pinch non hai messo pozzi freddi sopra il pinch né pozzi caldi sotto no però rispetto hai sempre rispettato anche la regola dei cp però guarda che casino hai combinato per non aver rispettato l'idea del posizionamento corretto ma anche facendo la cascata di temperatura quella a blocchi se a un certo punto ce ne aggiungi cioè 5000 nel come cui intermedio è ovvio che se non consuma tutto il suido prima di arrivare al pinch point quello rimanente quello rimanente passerà alla parte fredda e quindi non ci sarà attento però a ragionare soltanto in termini di cascata di temperatura ti spiego perché se tu guardi la cascata di temperatura di questo processo tu troverai che sopra il pinch sei sempre in surplus perché sei sempre in surplus perché tu i 5000 kilowatt che ti servono dalla hot utility quando ti fai la tua cascata come quella che abbiamo visto nel capitolo 2 tu li sconti tutti subiti tu li inserisci nella sommatoria all'inizio cioè all'inizio alto della cascata in questo caso però ora qua stiamo facendo un passo avanti Alessandro allora un conto è dire prendo questa curva la guardo in faccia e mi dico ok questo processo richiede 5000 kilowatt da sorgente calda perché la distanza sull'asse x nel punto di massima distanza è 5000 e deve darne 1000 al pozzo freddo perché la massima distanza dall'asse x alla fine della curva è 1000 stiamo facendo un passo avanti stiamo cominciando a ragionare ma questi 5000 kilowatt caldi che devo mettere e devono essere 5000 in quale punto o meglio a quale livello di temperatura lì inserisco ecco per fare questa scelta devi capire quali sorgenti calde hai a disposizione e come sono fatte perché se tu hai una sorgente calda ti fa l'esempio che può rilasciare 5000 kilowatt tutti di botto a 200 gradi questa non va bene per il tuo processo perché l'inserzione a 200 gradi non è il fabbisogno di calore totale del sistema il fabbisogno calore totale del sistema se la curva del sistema è fatta così ce lo hai sulla livello di temperatura più alto sì cioè se ci avessi una diciamo un fornitore di calore che è in grado di darti 5000 kilowatt a 300 gradi centigradi o quelli che sono allora lì ti va bene esatto perfetto se tu questi 5000 kilowatt li potevi rilasciare a 300 gradi quella sorgente andava bene per il tuo processo chiaro viceversa come puoi ovviare se tu hai una sorgente che te ne può rilasciare i 2500 a 200 e i 2500 a 300 questa combo va bene per il tuo processo è chiara l'idea quindi del principio del buon posizionamento ok cioè sì però indaghiamo un attimo perché allora immagina di avere a disposizione soltanto pozzi caldi o freddi a temperatura costante ok ok non puoi scegliere le temperature chiaro ora mettiamoci nell'ipotesi che comunque ce n'hai sempre una di temperatura abbastanza elevata da dare calore fino alla fine della curva ok bene se puoi scegliere le quantità di calore da trasferire ma non le temperature devi giocartela con i gradini ok nel senso perché tu non puoi scegliere la posizione del gradino lungo la temperature ma sei abbastanza fortunato da scegliere la profondità del gradino ok ok è un modo se viceversa seguimi non puoi scegliere la profondità del gradino cioè tu sai che i kilowatt sono quelli punto devi riuscire a trovare un punto in cui la temperatura del tuo pozzo caldo in questo caso fitta con lo spazio che ti manca a quel livello ho capito sì ci sono non devi finire in situazioni di questo tipo certo se tu hai questo delta H fisso sovraccarichi a 200 gradi non lo puoi usare per questo processo cioè con l'eserogente a temperatura fissa o puoi scegliere la temperatura o puoi scegliere il delta H e allora trovi sempre una scaletta fattibile o se no potresti rimanere più fregato o avere bisogno di un di un altro fornitore fornitura di calore nel senso devi cominciare a pensare di usare pozzi caldi diversi e lo stesso vale anche per i pozzi freddi chiaro ora problemi fatti così ti dice il libro comunque sono una buona cosa perché in genere il calore più ad alta temperatura più costa ok qua può eseguire una progressione cominciando a iniettare calore nel sistema anche a temperature più basse di quella più alta se il calore a 200 gradi costa meno di quello di 300 ti conviene fare questo gradino non ti conviene sparare tutto il 2000 kilowatt a 300 sì 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 ovviamente ci sono due parametri cioè il costo diciamo ipoteticamente del fluido di servizio per farti andare e l'apparecchiatura perché in un caso hai un'apparecchiatura a 300 gradi che ti porta tutto il calore nell'altro caso hai due apparecchiature a 300 e a 200 gradi sì però tu stai già mischiando nella tua testa i costi immobilizzati e i costi sì 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 quindi stai attento no è giusto è giusto che tu abbia in testa tante cose però stai attento a non usarle tutte nello stesso momento ok questo è un altro esempio guarda questo esempio qui è ancora più interessante allora tu hai una grande curva composta che arriva fino a 160 gradi ok questa è la temperatura più alta a cui entrano gli stream nella tua tabella 160 gradi eppure utilizzando il principio del buon posizionamento tu puoi fornire il calore a 100 gradi perché tutto il calore che manca da 100 gradi in su può essere può essere fornito dei fluidi caldi che attendano esatto se non fosse fornito non si potrebbe fare no allora se tu non fornisci energia a un sistema che ha lo stacco dall'asso in X vuol dire che la cascata non è fattibile qua stiamo parlando Alessandro a quale intervallo di temperatura fornirlo sì ok il mio punto secondo me era un'ovvietà però io volevo dire no allora te lo rispiego questo problema è relativamente semplice perché comunque sopra il pinch e sotto il vabbè sopra il pinch e anche un pochino sotto il pinch sei monotono sì questi problemi sono più interessanti ma anche un pochino tricky perché non sei monotono sì ma la monotonia qua viene in tuo vantaggio sì assolutamente allora perché quanti servono 25 kilowatt tu sai che una volta che tu allochi 25 kilowatt la tua cascata è infattibile cioè arrivi al pinch con un surplus di zero ma non negativo ok esatto va bene il problema è dove li butto questi 25 kilowatt quando il grafico è monotono è molto ovvio ad esempio immagina che il grafico finiva qua dove io te l'ho tagliato con lo schermo bene ti fai tanti grandini sì magari ne butti dentro un po' a 100 ne butti dentro un altro po' tatatata sei un cacco di questo tipo non è intuitivo ma si può vedere che ti basta inserire il calore a 100 gradi per soddisfare un sistema che parte ben da 160 è chiaro è chiaro cioè il vero motivo è che se tu inserisci il calore qua aumenti l'entalpia dei fluidi freddi i fluidi freddi ne chiedono meno ai fluidi caldi e quindi tu immaginando di percorrere la cascata verso l'alto arrivi con il surplus giusto sì non lo puoi fare sempre però in questo caso sì cioè è come dire ricordati l'esempio del capitolo 2 in cui la cascata all'inizio era positiva e diventava negativa in mezzo poi tu aggiungi la hot utility e la cascata diventa maggiore o uguale di zero dovunque e quindi diventa fattibile in questo tipo di problemi in cui la grande curva composta non è monotona tu cosa succede? è vero la cascata se non inseriscono la hot utility non è fattibile ma immagina di cominciare a sfruttare con riserva mentale il surplus di entalpia che è alte temperature sì sì senza aggiungere la hot utility ok a un certo punto quando hai finito il surplus di entalpia e stai per diventare negativo e quindi stai per dimostrare al mondo che la tua cascata è infattibile a quel punto e gli butti dentro la hot utility chiaro chiaro sì 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 in un problema di questo tipo non lo puoi fare questo gioco eh no no perché la non monotonia della curva ti fa sì che se tu non inserisci almeno un po' di calore almeno un po' di calore a 300 tu diventi con il surplus negativo fin da subito e quindi il trucco non riesce chiaro cioè è come una partita di poker in cui tu stai barando e hai l'asso nella manica sì sì ecco se la partita è fatta così tu l'asso dalla manica lo metti da fuori subito ti servirà sempre un po' di calore a 300 gradi questo gioco dei granini ti può fare uno sconto ma non ti può salvare dal fatto che prima o poi dovrai inserire almeno una frazione di calore alla temperatura più alta possibile viceversa questi grafici qua sono come partite in cui l'asso nella manica ti serve solo alla fine e puoi andare avanti per tutta la serata bleffando perché se il processo è fatto così il tuo blef non viene scoperto finché non sei vicino al pinch se non ne hai bisogno nelle parti più alte questa è una cosa che se pensi alla tabella della cascata di temperature se guardi il grafico si capisce ma spiegarle a parole con i ragionamenti mi rendo conto è veramente impestato ora questo discorso il principio del buon posizionamento serve a farti capire quando nella pratica tu devi inserire calore e quanto veramente all'inizio della cascata e quando no cioè nell'impianto dove mettere gli iter e quanto far scaldare da questi esatto lo stesso vale qua guarda per il pozzo freddo in realtà tu il calore questo è 60 kilowatt non li devi tirar via tutti a 20 gradi puoi cominciare a tirarli via a 60 perché? perché evidentemente da 60 a 20 c'è qualche fluido freddo che entra nel sistema a 20 gradi e può portare via lui il calore in eccesso dei fluidi calcoli dei fluidi caldi che devono raffreddarsi è solo da 60 gradi in su che i fluidi caldi hanno bisogno di un pozzo freddo esterno perché non hai più fluidi freddi in grado di assumere la loro entalpia e queste cose le vedi molto meglio dal grafico che ripeto non dei discorsi purtroppo adesso andiamo introdurre il concetto delle utility pages allora dobbiamo fare un altro passo in più ok immagina adesso di farti dei grafici le cosiddette grandi curve composte bilanciate in cui tu sottrai sempre nel senso delle entalpie le righe tratteggiate dalla riga continua ok cioè se questa è la rappresentazione grafica delle correnti di servizio tu fai la sottrazione del processo con la corrente di servizio perfetto guarda cosa viene fuori vengono fuori le cosiddette correnti bilanciate te lo introduco subito poi torno su e ti spiego il resto bene questa è una lì in basso grande curva composta bilanciata ok era quello che mi aspettava perché ti accorgi che è bilanciata perché tu in teoria hai un doppio threshold problem nessun bisogno di 8 utility perché qua in cima sei a zero e nessun bisogno di cold utility perché qua sei a zero questo ti deriva dal fatto dall'aver messo le correnti di servizio nei tuoi calcoli se tu cominci la pincia analisi del tuo sistema facendoti una tabella in cui non ci sono soltanto i fluidi di processo ma ci sono anche i fluidi di servizio arriverai alla fine a produrre direttamente le curve le curve composte bilanciate ora torniamo un attimo qui bene tu ti puoi soddisfare questa cascata di temperatura con dei gradini ma in teoria te la puoi soddisfare anche con una linea diagonale uccello sì e come fai cosa rappresenta una riga diagonale su questo diagramma rappresenta nient'altro che un fluido caldo che si raffredda vale a dire una hot utility a temperatura non costante sì quello che pensavo sì 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 perfetto variable temperature utilities tada chiarissime qua ti fa vedere tre hot utilities che potrebbero soddisfare al caso nostro allora in un caso ti dice tu hai a disposizione calore alla temperatura massima fissa di 360 ok allora la riga diagonale più esterna corrisponde a una certa portata massica chiaro la riga diagonale più interna corrisponderà a una certa portata massica in particolare quella parallela no non parallela guarda la riga diagonale esterna e la riga diagonale più interna a partire da un punto fisso ok allora vedi che a parità di delta h questa linea perde meno temperatura questa linea ne perde di più quindi vuol dire che qui tu a partire da un punto fisso ti stai muovendo su portate massiche differenti viceversa se la portata massica è fissa ma non la temperatura finale puoi traslare rigidamente questa qui e fare la curva puntinata ok la curva puntinata se tu ce la puoi avere è ancora meglio perché graficamente sei ancora più vicino alla tua grande curva composta di processo sì chiaro e quindi non hai bisogno di salire fino a 360 gradi puoi rimanere diciamo fino a 340 questo però insomma dipende da quello che puoi fare dipende da cosa hai a disposizione qua ti fa vedere un altro esempio con quando hai un sistema a ricircolo allora un sistema a ricircolo tipicamente con olio diatermo può essere comodo quando fare questo fitting con un fumo di combustione ti riesce difficile ok perché tipicamente i fumi di combustione hanno intanto una temperatura di produzione non ben controllabile e poi a volte un cp un po' troppo piccolo ok viceversa se tu metti in mezzo un circuito fatto così con un fluto termovettore di portata molto ben controllata di calore specifico molto ben controllato allora tu ti puoi ottenere la curva tratteggiata virtualmente come la vuoi tu perché tu in questo circuito intermedio puoi scendere sia la temperatura sia la portata sia il cp cambiando fluido cioè il fumo di combustione che ha tante incognite serve solo a mantenere un certo delta H qui tu puoi giocare sul termovettore intermedio per trasportare il delta H da qui al processo in maniera molto più controllata certo cioè se questa linea tratteggiata Alessandro fosse data dal tuo fumo di combustione diretto avresti una linea tratteggiata che balla nel corso del tempo sia come punto più alto che come inclinazione in tanti casi può andare bene ma tu per fare un progetto che sta in piedi saresti costretto a progettare la linea tratteggiata con un bel margine di frequenza verso l'alto per proteggerti da queste variazioni se invece ti progetti il circuito intermedio tu la curva del circuito intermedio la puoi progettare con molta più precisione e buonanotte a secchio ovviamente pagherai questa cosa perché nel trasferire da tacca da qui e qui ci saranno delle perdite che sconterai assolutamente cioè la fornace che scalda il termovittore intermedio ha delle perdite che potrebbero andare fuori sì delle dissipazioni di calore sì sì assolutamente e soprattutto ti fa notare il libro si aggiunge un circuito in più aggiunge un costo immobilizzato andiamo avanti allora qua ti fa vedere quello che in parte ti ho già detto abbiamo facciamo pinta una curva di processo fatta come quella nera continua abbiamo una hot utility fatta come quella tratteggiata abbiamo la versione traslata e abbiamo la curva composta bilanciata attenzione battaglione notiamo una cosa interessante nella curva composta bilanciata Alessandro tu vedi due pinch point che in realtà non appartengono al processo reale perché la curva nera di partenza il pinch ce l'ha qui ce l'ha ce l'ha a 50 gradi ed è comunque diciamo un threshold problem adesso da dove arrivano questi due pinch qua questi sono i cosiddetti pinch dell'utility cioè immagina il tuo processo originario Alessandro non immaginarlo più come una composizione di fluidi caldi e fluidi freddi fatta secondo i metodi che abbiamo visto ieri immagina adesso che rispetto al pozzo caldo tutto il tuo processo è un gigantesco fluido freddo tutto il tuo processo aspetta sì quindi cosa succede se tu accoppi la curva composta del fluido freddo alla curva composta del fluido caldo vai a vedere di nuovo il pinch point ma in questo caso non sono i pinch point del tuo processo originario sono i pinch point del tuo processo bilanciato e nota anche che sono più di uno come se tu stessi violando una delle regole del pinch se tu ti muovi via dal pinch violando la regola dell'accoppiamento dei calori specifici cioè se non mi metti fluidi freddi e cp alto sopra il pinch e fluidi freddi e cp basso sotto il pinch se violi questa regola vai verso una situazione patologica in cui moltiplichi i pinch point certo ma quando si tratta di accoppiare il processo agli ultimitis questa regola la puoi un attimino rilassare perché anche se hai a che fare con un processo con pinch point multipli ma niente guarda hai una sorgente a temperatura fissa che entra qui una sorgente a temperatura fissa che entra qui qualcosa di temperatura variabile che fa questo pezzo e qualcosa di temperatura variabile che fa quest'altro pezzo questo è un caso in cui il principio del buon posizionamento va con la realtà perché li hanno aggiunti un esempio che ti hanno detto guarda questi kilowatt sono per forza a 400 gradi non te li posso dare a di meno te ne posso dare però un altro po' a 200 a temperatura fissa viceversa c'è in giro della roba a temperatura variabile a diverse temperature allora qua ad esempio di utility qui in genere avresti due uno e due se usi la curva a puntini allora uno e due sì 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 ovviamente anche gli utility pinch sono importanti perché comunque sono i punti in cui il trasferimento di calore dal pozzo caldo al sistema è più critico ok allora qui purtroppo non ti disegna anche le curve bilanciate no però in questo caso ad esempio si avrebbe dai 60 ai 30 gradi quella specie di triangolo che viene traslato sull'asse orizzontale cioè scusa sul a sì bravo esatto avresti una curva fatta così sotto linea nera indisturbata esatto poi avresti traslazione orizzontale esatto e poi il trapezio e poi avresti una cosa così perfetto e quindi individueresti un pinch utility qua a 60 esatto e l'analogo per il pezzo sopra esatto curva nera indisturbata fino a qui traslazione rigida orizzontale e poi il trapezio perfetto esattamente con un pinch utility qua e un ovviamente in cima bene io oggi mi fermerei qua perché comunque di carne al suoco secondo me è un messa tanta cosa dice ok grazie